ma cosa è questa crisi ma cosa è questa crisi bentornato marco ciao pietro bentornati a tutti a questa ennesima puntata delle fritte seconda puntata del 2021 e siamo stati trasportati dagli eventi oggi parliamo di questa benedetta crisi di governo italiana perché insomma nell'ultima settimana è successo di tutto marco è successo finalmente non si parlava esclusivamente del coronavirus c'era anche un altro argomento sui giornali esatto e quindi noi questa puntata faremo un percorso logico prima ricordando come sono finite le ultime elezioni perché abbiamo visto già tra i social la stampa il governo non è eletto questo non ha il titolo per fare c'è da fare un attimo chiarezza su questa cosa e poi fatto il punto su chi ha vinto chi ha perso o chi ha pareggiato nel 2018 andremo a toccare quali possono essere le possibili soluzioni di questa crisi facciamo un po come dire le carte i tarocchi facciamo anche noi notisti politici politologi adesso quindi marco allora intanto come sono finite le elezioni del 2018 esatto questo è il punto di partenza perché quello che vale la quantità di deputati e senatori che ci sono in parlamento vengono alle elezioni del 2018 non vengono dalle europee dalle comunali dalle regionali no le elezioni hanno un obiettivo ogni volta no se ne faceva una ogni cinque anni e vale per tutto il cucuzaro no non funziona così nel 2018 vinsero le cinque stelle furono più il partito più importante e come risultato elettorale nelle coalizioni e c'erano due coalizioni poi le prime elezioni che ruppero il bipartitismo il bipolarismo che si era creato con la legge maggioritaria il centro-destra fu la prima coalizione ma ugualmente non raggiunse il quorum necessario per far scattare il premio di maggioranza quindi il parlamento fuoriuscito dal 2018 è un parlamento nel quale i governi e le maggioranze si fanno in parlamento per come dovrebbe essere diciamo in generale con degli accordi che vanno oltre a come si sono presentate le forze politiche così nacque il primo governo conte alla cui base c'è il tra virgolette il tradimento della lega nei confronti degli alleati del centro-destra perché la lega si rappresentava col centro-destra disse grazie arrivederci aspettate un momento e fece il governo il primo e il terzo partito perché la lega era al terzo alle elezioni e cinque stelle il primo fecerò il governo poi col famoso mojito di salvini che pare sia la stessa lo stesso tipo di 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 bevanda che utilizzato renzi in questi giorni e saltato o quell'accordo e se ne costruito un altro che al centro c'aveva il primo e il secondo partito cioè cinque stelle e lì c'era anche la come dire la ruota di scorta di leu perché italia viva non esisteva quando hanno fatto il conte due è una scissione dal partito democratico o le pochi pochi giorni poche settimane dopo la nascita del governo di cui renzi fu indubbiamente allora dirigente del pd aveva spinto per questo accordo quindi i che conte sia in qualche modo perché è stato scelto a suo tempo dalla lega e dai cinque stelle è stato poi riconfermato dai cinque stelle e il partito democratico un po il perno intorno al quale si stanno giocando gli equilibri è pienamente legittimo può piacere o meno può piacere o meno questa sua capacità di essere presidente del consiglio nel governo più a destra della storia della seconda repubblica e nel governo dicono più a sinistra nella storia della seconda repubblica però quanto questo è quanto lui lista perché ce l'hanno messi partiti che hanno con in base al loro risultato elettorale esatto e ricordiamo che ovviamente in questo quadro anche le ragioni che se per quanto insomma non sono state scritte nero su bianco ma guardando un po la situazione pare chiarissimo che il problema sia la gestione di questi soldi che arriveranno dall'europa del famoso recovery funds che è stato formulato in un certo modo e che evidentemente la parte maggioritaria di confindustria di cui renzi si è ritrovato interlocutore ricorda marco travaglio che non mi piace particolarmente ma prima che nascesse questa crisi di governo i renziani hanno avuto negli ultimi due mesi qualcosa come 200 interviste sui quotidiani quelli diciamo più controllati da confindustria quindi chiaramente il segnale per chi riesce a leggere queste cose e che renzi è non è uno che così improvviso si è portato a fa sta cosa è il rappresentante di una parte della confindustria italiana che vuole un recovery fund un utilizzo di quelle risorse in maniera diversa magari più per le grandi opere e che non non tollera che questa cosa non venga fatta e una cosa che io voglio sottolineare è che contrariamente a quello che è sempre avvenuto quando c'è stata una crisi di governo in italia che minava la stabilità del paese i capi di confindustria sul loro giornale dovunque articoli che chiedono per favore la stabilità del paese questa volta muti sono stati non è uscito assolutamente nulla perché chiaramente questo è qualcosa che va diciamo nella nella direzione auspicata da confindustria quindi ecco una aggiungere solamente tanto ricordare che parla si di 222 miliardi di euro quello che bisogna gestire e una un appunto tanto per dire c'è è uscito sui giornali che grazie ad italia viva il progetto italiano per come utilizzare questi fondi è stato migliorato ora noi non conosciamo nei dettagli tutte le cose sappiamo che per esempio il discorso sulla sanità su più fondi alla sanità era portata avanti anche dal pd e dall'eu dalla povera l'eu che c'è al ministro speranza quindi non è proprio una battaglia sulle barricate da parte di italia viva che italia viva ha messo l'accento soprattutto sulle grandi opere e questo come dire rimanda è che ad esempio per comprendere il modello economico e di utilizzo dei fondi la ministra di missionaria la bellanova la ministra dell'agricoltura ultimamente ha fatto delle chiare dichiarazioni per ad esempio basta con questo assistenzialismo bisogna rilanciare il lavoro quindi uno gli è stato chiesto che cosa significa significa non mettere ancora altri soldi sulla cassa integrazione ma su far partire cantieri e progetti non mettere soldi sulla cassa integrazione vuol dire che le persone che oggi non stanno lavorando per la crisi domani stanno in fila alla caritas per mangiare allora che cosa vuol dire questa questa alternativa fra l'assistenza che fondamentale necessaria soprattutto in questo momento di crisi drammatica e il rilancio economico ma c'è su 222 miliardi non possiamo vedere niente per l'assistenza no e diciamo prima di andare alle soluzioni qualcuno aveva definito la bella nuova diciamo la nuova di vittorio che peste vi colga perché proprio non ci sta dentro questo questo discorso marco però a questo punto facciamo i tarocchi quali possono essere le soluzioni a questa crisi di governo numero uno questo famoso costituirsi del gruppo dei responsabili responsabili costruttori insomma sostanzialmente e in parlamento c'è c'è un gruppo misto e parecchia gente del gruppo misto già appoggia il governo in più nei appunto le elezioni sono state nel 2018 in questi tre anni il quadro politico un po cambiato e gente che ha lasciato i partiti una volta finito il parlamento nella camera o nel salato che ha lasciato i partiti la mobilità fra le varie è enorme quindi non sembrerebbe tanto complicato almeno a leggere i giornali che si costituisca un gruppo i senatori d'italia viva sono 17 18 se non mi sbaglio quindi non è che servono bisogna recuperare 50 senatori una quindicina e funziona al senato fra l'altro la maggioranza in questi casi è la maggioranza dei votanti quindi non solo ti aiutano quelli che vengono che ti votano la fiducia ma anche quelli che non c'è un altro da fare non posso venire il giorno delle votazioni e fra l'altro sembrerebbe con nuovamente un grande ruolo degli eletti all'estero perché fra questi che sono pronti a a fare i volontari i costruttori i nuovi costruttori c'è uno dei dei gruppi senatori del eletti con il mai che è una associazione di italiani all'estero dell'america latina sostanzialmente e che sono pronti a fare il salto come ai suoi tempi fece altri tristi figuri eletti a quel tempo col centro sinistra e in più fra la stessa italia viva bisogna considerare che coloro che stanno in parlamento o furono eletti nella coalizione centrosinistra perché erano del pd a quel tempo quindi sembrerebbe che che qualcuno stia dicendo va bene non fondo io mi fermo la macchina parcheggiata non si trova parcheggio poi diventa complicato altra soluzione che a questa conta conte va giù non ha la maggioranza a quel punto conte dovrà dare le dimissioni e il presidente mattarella dovrà aprire un nuovo giro di consultazioni per vedere se un'altra maggioranza casomai legata anche a un'altra persona è possibile il tutto sapendo che ci sono due blocchi rispetto alla soluzione più classica che sarebbe si va a votare i blocchi sono a partire da giugno il blocco legato al semestre bianco cioè i sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente della repubblica non si può votare prima di giugno c'è il coviter come dire che ha il suo peso l'altro giorno abbiamo visto in televisione salvini con la lista della spesa dei paesi che voteranno nei prossimi mesi già il primo la catalogna sembra di no che ci sia l'accordo per rinviare le elezioni a proposito delle elezioni amministrative in spagna già c'è stato un caso nel e i paesi baschi e la galizia hanno votato avrebbero dovuto votare in marzo aprile con la ondata fu rinviato votarono in luglio mi sembra nell'estate quando la curva era scesa ma con significativi problemi perché se tu voti durante una pandemia tu ad esempio stai levando il diritto costituzionale del voto a una persona che in quarantena perché è positivo anche asintomatico esatto gli stati uniti hanno eletto il presidente ma gli stati uniti hanno anche il voto per corrispondenza che fra l'altro è stato uno degli elementi per cui Trump ha detto ma hanno fregato ma hanno imbrogliato in Italia non ce l'abbiamo il voto per corrispondenza e non è che ti inventi un'organizzazione per avere il voto per corrispondenza in due mesi o in tre mesi quindi il votare durante la pandemia a parte il rischio sanitario rischia di levare il diritto di voto a molte persone e quindi sembra poco una strada che è un po' difficile da seguire e allora Marco chiudiamola qua questa puntata abbiamo dato le indicazioni per capire per orientarsi un po' su questa situazione noi ringraziamo come al solito questo migliaio di persone che si vede nella nostra puntata più quelli che ci seguono su Radio Mir e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana a presto e con proietti ma cos'è questa crisi esatto a presto